Il Sud, lo sapete, è il padrone di casa, è il nostro Raffaele. Bene, voi sapete tutti che nella vita ci sono gli amici dei momenti buoni, delle amicizie facili di quando tutto va bene e ci sono anche gli amici dei momenti difficili, quello in cui è appunto difficile essere amici. Raffaele è un amico mio del nostro partito della libertà, anche dei momenti più difficili. Vi devo dire che io non soltanto vi porto amicizia e stima, vi voglio dire che io vi voglio bene. Grazie a tutti.